Susanna Uxtepp, con origini inglesi da parte del padre, nasce a Trieste il 10 giugno 1969. Nel 1984, alla tenera età di 15 anni, vince il concorso di Miss Italia a Salso Maggiore. Susanna studiava per diventare corrispondente in lingua estere, ma ha sempre sperato di poter diventare una fotomodella. Nel frattempo la popolarità ottenuta con il titolo di Miss Italia le ha consentito di recitare al fianco di Philippe Leroy, nel film per la televisione Baccia mi strega di Duccio Tessari. L'esperienza come attrice è stata positiva, ma per Susanna stava per concretizzarsi il suo sogno di lavorare nel mondo della moda. Infatti di lì a poco è diventata una delle modelle italiane più richieste, lavorando nella famosa agenzia fashion model di Milano. Ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le firme più prestigiose, come Versace, Valentino e Armani. Nel 1987 la ricordiamo nel fortunatissimo videoclip musicale del brano Viva la mamma, di Edoardo Bennato. Susanna è una grande amante degli animali e si è impegnata in una campagna contro l'abbandono dei cani. Attualmente lavora nel settore della ristorazione insieme al marito, l'imprenditore napoletano Pietro Savarese. Ha un figlio che si chiama Augusto.